benvenuti in questa lezione parleremo della biopsia scissionale di una ghiandola salivare minore e in particolare di una lesione di questa ghiandola che si chiama mucociele una cisti da stravaso in corrispondenza del labbro inferiore l'intervento per l'asportazione di un mucociele una cisti da stravaso del labbro inferiore è un intervento molto semplice che puoi seguire all'interno dello studio odontoiatrico la visita di questo paziente la verifica di quelle che sono le condizioni del labbro inferiore ci fanno capire come le labbra di questo paziente siano costantemente traumatizzate da un'abitudine viziata che è un morsicamento continuo appunto della superficie vestibolare del labbro identifichiamo quella che è la lesione una lesione molto piccola dal punto che potremmo chiederci perché asportare questa lesione in realtà perché ciclicamente da degli episodi di gonfiore anche un gonfiore improvviso è abbastanza evidente che altera oltre che quelle che possono essere normali la normale masticazione anche il profilo del labbro quindi anche un da un punto di vista estetico possiamo vedere sulla superficie vestibolare del labbro delle piccole goccioline di saliva che vanno identificare quelle che sono i dotti escretori delle ghiandole salivari